Sono circa una trentina i docenti Novax rientrati oggi a scuola in provincia di Lucca. Un numero ridotto rispetto a quello stimato al 15 dicembre scorso quando c'è scattato l'obbligo di vaccino per il personale scolastico. Allora si parlò di circa 250 insegnanti non immunizzati. Nel frattempo molti hanno avuto il covid e altri si sono invece decisi a vaccinarsi e sono nel frattempo già rientrati. Una situazione a macchia di leopardo. Ci sono istituti che oggi contano due o tre non vaccinati ma molti altri che non ne contano affatto. I circa 30 insegnanti fra scuole superiori e istituti comprensivi sono tornati sì al lavoro ma non in classe. Come chiarito dalla circolare del ministero firmata solo pochi giorni fa i prof non vaccinati fino alla fine dell'anno scolastico non potranno stare a contatto con gli studenti e dunque da oggi si trovano impiegati in biblioteca, agli archivi o su progetti particolari. Si tratta di un cambio di mansione vero e proprio commenta il segretario provinciale della FLCCGL Antonio Mercuri sono stati reinseriti come personale temporaneamente non idoneo all'insegnamento passando da 18 ore a 36 ore lavorative con attività anche in orario pomeridiano ma l'inidognità dovrebbe essere dichiarata da un certificato medico a ferma e non per decreto. È tornato alla propria mansione invece il personale ATA per il quale è più facile mantenere la distanza dagli studenti tranne che alle scuole dell'infanzia dove i bidelli spesso assistono i bambini piccoli alcuni per questo sono stati trasferiti alle scuole medie. Insomma una situazione ancora una volta complessa che va ad appesantire il lavoro dei dirigenti scolastici in una fase in cui la curva pandemica torna a salire con casi in costante crescita nelle classi.